Dighi di rispettare i patti col Breda, così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, in una delle due conversazioni registrate in modo occulto e scovate dalla Digos nel computer di Sergio Staderini, ex amministratore unico di Coingas, frasi che scottano riportate nero su bianco nel decreto di perquisizione che ha fatto tremare la politica retina. L'inchiesta, sbocciata dal caso Coingas, vede infatti un consigliere comunale e due presidenti di partecipate indagati e perquisiti per corruzione. Si tratta di Roberto Bardelli, Luca Mendola e Lorenzo Roggi, quest'ultimi rispettivamente alla guida di Arezzo Multiservizi e Arezzo Casa. La conversazione in questione tra il sindaco e l'allora amministratore di Coingas avviene il 9 agosto 2016, quattro giorni dopo che Roberto Bardelli e Lorenzo Roggi si erano presentati dal primo cittadino per raccontare della promessa che l'amministratore di Arezzo Multiservizi avrebbe fatto Bardelli, ossia un prestito di 200.000 euro con una banca Umbra in cambio del suo appoggio alla nomina avvenuta qualche mese prima. Il sindaco nelle conversazioni riportate nel decreto dice all'ex amministratore di Coingas di aver ricevuto pressioni per l'incarico di Amendola. Poi è lui stesso a chiedere a Saderini di intervenire su Amendola per dirgli di rispettare i patti quali siano, però, aggiunge Ghinelli, esattamente non lo sa nessuno. Infine la terza frase, forse la meno comprensibile, in quanto l'interlocutore non è nominato nel decreto dove il sindaco dice che gli sarebbe stato indicato di parlare della questione anche con un'altra persona di cui appunto però non si conosce l'identità. Le due conversazioni al centro dell'inchiesta sarebbero state registrate con il cellulare, secondo gli inquirenti, dallo stesso Saderini all'insaputa dei presenti e poi riversate sul computer che gli era stato sequestrato lo scorso luglio. L'ex amministratore unico di Coingas è infatti al centro di un'altra inchiesta, quella relativa alle consulenze d'oro della partecipata. L'ex amministratore unico di Coingas,